ARIANA 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 Qu'è bà te c'è di sariyana? Dù d'è hi o'r'e sìt'ka, choriya ke ghi t'ka Qu'è bà te c'è di sariyana? Pèthek bittar vù tè d'arà, kè tassà ki jìt'ka Sammad kè mati chakà, to m'ajai n'yara ho sa Haryyanae me thhoorio rè, yon n'a jara ho sa Pare haryyanae me thhoorio rè, yon n'a jara ho sa Yon n'a jara ho sa Paggi jota c'laan ka, johad ke maanan ka Qu'è bà te c'è di sariyana? Qu'è bà te c'è di sariyana? Paggi jota c'laan ka, johad ke maanan ka Tektra bachala ka, phađe kardi dharti bahan ka Pate gudn'e khan ka, to m'ajai n'yara ho sa Haryyanae me thhoorio rè, yon n'a jara ho sa Haryyanae me thhoorio rè, yon n'a jara ho sa Qu'è bà te c'è di sariyana? 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito